Paolo, quanto deve essere lungo un racconto? Non c'è una regola per la lunghezza dei racconti, così come non ce n'è per la lunghezza dei romanzi. Sono, diciamo così, decisioni che prendono anche gli editori, che decidono di pubblicare un romanzo di mille pagine, duemila, di tremila, e via così, oppure di non pubblicarlo. E invece sulla lunghezza dei racconti, diciamo che convenzionalmente se un testo supera le 80-90 cartelle, non è più un racconto, le 80-90 pagine, e diventa un romanzo breve. In quel caso invece prima sarebbe un racconto lungo. Ma è importante sapere che i racconti in genere vanno da 2, 3, 4, 5, 10 pagine, 30 pagine, ma anche a una sola pagina, oppure a una sola riga, e addirittura a poche parole. Tipo per esempio il famoso racconto di Augusto Monterroso, che recita semplicemente «Quando si risvegliò, il dinosauro era ancora lì». Oppure un altro famoso racconto di Ernest Hemingway, che recita semplicemente «Vendesi scarpe per neonato mai usate». Ecco, sono due racconti che in pochissime parole esprimono un intero mondo. Quello del dinosauro per esempio può essere un racconto fantastico probabilmente, se è il personaggio che si sveglia un uomo, perché il rapporto tra uomini e dinosauri non c'è mai stato. Potrebbe essere anche un racconto realistico però, se a svegliarsi fosse il dinosauro. Quando si risvegliò il dinosauro era ancora lì, dove? Nella preistoria. Mentre il racconto di Hemingway è sicuramente un racconto realistico, è tra i più tristi, perché qualcuno che mette in vendita delle scarpe da neonato mai usate deve essere talmente povero da sbarazzarsi di qualcosa così profonda nella sua vita. Neanche il coraggio di tenere il ricordo di un grande dolore, un neonato che non è mai nato o è subito morto, ma nello stesso tempo non si butta, si vende.